Mmm, che registro oggi? Adopt me? Adopt me? Adopt me? Adopt me? No! Oggi giochiamo ad Adoption Simulator! Guardate, sono tutti i pet di Adopt me! Fatti in modo male, però pur sempre carini e coccolosi! Il nostro scopo di oggi sarà quello di avere il pet più potente del mondo! Questo pet è così potente che ti renderà immortale! Gli darò tanto di quell'amore che la Nutella non avrà proprio lo stesso effetto! Se volete un po' di amore, ragazzi, lasciate un mega pollice in su! Eh, Adoption Simulator, guardate! Ma dai, ma ci sono le pet che... Non so se stranirmi per il cane... Oh, che io sia un cactus! Che cactus è? Cioè, guardate, ragazzi! Sono diventato un cactus! Attento che pungo! Oh no! Oh no! Vuoi un abbraccio? No, ok, lo so che non vuoi l'abbraccio, però... Senti, io te lo do lo stesso l'abbraccio! Puh, non pungo, giuro! No, ti prego, cagnolino, non soffrire! Non pungo! Allora, praticamente il gioco consiste nel cliccare in continuazione per dare amore! Guardate, guardate! Qua, l'amore è calcolabile in soldi! Ok, quindi più amore dai, più soldi ricevi! Mi dispiace per tutti quelli che non hanno la fidanzatina! Questa è segreta! Ah, ci sono pure le queste segrete! Allora, skip, skip... C'è, per saltare una quest devo pagare! Ma io ti fago con l'amore! Visto che l'amore ormai fa guadagnare! Ma paghiamo con l'amore! Guardate come accarezza quel cagnolino! Accarezzalo, accarezzalo! Uaaaaah! Sta partendo a fuoco il cane che è troppo... Gli sto bruciando il pelo! Scusami! Non ti volevo rasare il pelo con lanciafiamme! Uaaaaah! Ok, quindi più accarezzo meglio è! Ritorniamo! Allora, tecnicamente io devo vendere il mio amore, no? Come faccio? Allora, questa è l'isola dell'uomo, ok! Questa è l'isola degli upgrade, ok! Questa è l'isola degli soldi gratis! A me sembra più un frigorifero pieno di sabbia! Quando ritorno ad amare con tutta la sabbia addosso la prima cosa che faccio è aprire il frigorifero! Ecco quello che mi ritrovo! Oh, facciamo le quest! Ok, la prima quest è... A 15.000 mi danno una gallina! È il pepe! Bellissimo! Voglio una gallina! Ah, voglio rossita! Rossita! Andiamo sui mondi! Mondi! Eccoli! Ok, ci sono diversi mondi! Ognuno di noi ha un mondo! Dov'è il mondo dei cactus? Che è un deserto? Lo so che è solo da queste parti! Eccolo! Eccolo il mio mondo! Guarda! Ma dai, è bellissimo! Con la faccia da cactus! Ma che cactus sto vedendo! Allora, fatemi capire come funzionano queste segrete! Se io trovo uno standard egg, un dangerous egg, un furry egg, un furry, un uovo di gaccia, dove lo mettiamo un uovo di gaccia? E ora, un avanzo di rinascita, sbloccherò! Che cosa sblocco? Un cactus? Ok, basta! Ho deciso! Andiamoci a comprare qualcosa! Compriamo! Questo! Ogni upgrade moltiplica il mio amore! Ok, quindi, più... Ma, porca miseria, ma cosa sta facendo questo petto? Oh! Oh! Ma lo stai ammazzando! Oh! Fagli vedere chi è più veloce! Fagli vedere chi comanda qui! Fagli vedere! Non c'è niente da fare! Lui è più veloce di me! Io non do così tanto amore! Inchevento la mia velocità! La gallina! Sblocco la gallina! Dai, che poi faccio le uova! E ci faccio la frittata! Sì! Reclama la gallina! Oh! Una gallina! Grazie! È molto gentile! Oh! Vediamo il mio nuovo petto! Se adesso io metto la gallina... Vediamo! Tu, in teoria, mi dovresti dare 100! Eeeh! Ma tu ha! Fagli vedere! Fa le uova, rossitta! Fa le uova! Ah, sto uovo! Da che poi facevo la carbonara alla rossitta! C'è la sezione store! Allora, andiamo alla sezione store! In teoria ci dovrebbero essere... Eeeh! Vabbè! Il coyote! Che è da 4.000! No! L'arena! Che ne da 24! La grande star un mostro! Che me ne da 10.000! Eeeh! Sì, ma costano Robux esti qua... Scusami un attimo, scusami un attimo! Allora, voglio un nuovo pet! Perché la gallina, ok, è bella tutta! Che sembra tutto che è una gallina! Sembra un evidenziatore rosso! Eeeh! Allora, tutto è una gallina! Andiamo nella terra delle uova! Vediamo quanto costano le uova! Questo è uno starter egg! Ok, 1.500! Questo è un uovo classico! 22.000! Questo è un uovo bello! E' proprio bello sto uovo! E' velenoso! E' il fungo di Super Mario! Sono un ghiotto schioppo? E vabbè, non voglio schioppare! E poi c'è l'uovo di Fury che costa 520 milioni! Sono ancora povero! Prendo un uovo di questi! Ho il 60% di beccarmi! Oh, ma sei vivo, bello! La tartaruga! Oh, che bella! Quanto dà la tartaruga? Ottanta! Vabbè, l'acquipaggio! Ne voglio un'altra! Oh! Cornutino! Il maiale! Che dà un sacco! E certo che vuoi... Cioè, il cornutino non ti deve dare di più! Guardate qua! Quanto fai, cornutino? 200! Sei proprio un pezzo di maiale! Equipaggio, cornutino! Aspetta, arrivo! Fammelo vedere! In tutto il suo splendore! Fammelo vedere! Eccolo il mio cornutino! Cioè, sei un pochino bruttino rispetto a Adoptimus! Ma se forse è per carino! Che stai facendo? No, non fare amicizia con la tartaruga! Cornutino, sei proprio un maiale! I'm sexy and I know it! Ok, no, ti prendo! Adoptimus non ci dà la possibilità di accarezzare pet! Quante carezze devo fare a cornutino! Brucia! Brucia! Se continuo così lo faccio diventare un maiale cotto! Un prosciutto cotto! Aiuto! Mi sta dando il dito uno scatafascio! Si vola! È vero? Non abbiamo le pozioni Fly and Ride! Uff! Allora, vuoi un altro pet? Vuoi un altro pet? Siamo a quasi 210.000! Allora, arriviamo a 210.000! Ci prendiamo la mucca! La mucca che è ultra rara! 210.000! Ok! Tutto l'amore mio per cornutino vale 210.000! Anzi, molto di più! Ragazzi, non facciamoci raffrettato con questo uomo! Perché è belenoso! Però io lo prendo! Ma cos'è? Ma cos'è? No, non ho capito cos'è questa cosa! Mi scusi, ma... Tra l'altro, a prima botta! E vai! Voglio capire che pet è! Una pecora! E questa ti sembra una pecora! A me sembra un topo con un cappuccio! Perché c'è un cappuccio? Me lo spieghi! Vabbè, l'equippo! Quanto fa? 850! No, cornutino! Sei stato superato! Mi dispiace! Ritorno a casa! Dove sei, pecora? Ma è un topo, dai! Ma è un topo! Senti, adesso con la lanna ci faccio il letto! Con quanta velocità sto salendo! Che 100-100.000! Sta soffrendo la pecora! Sta soffrendo! Allora, aumentiamoci un pochino tutto! Facciamo! La velocità! Molta più velocità! Tutto! Oh, massimo! Eppure, amore! 85.000! 91.000! 98.000! Oh, quanto! È l'uovo cactus che è l'otra contro il male! Minese è proprio bravo con quella mano! Povera pecora! Povera pecora! Si trova a 40 milioni, Minese! Allora voglio proprio vedere il meglio del meglio! 1,8 mila! Va bene! Prendi un nuovo uovo! Chi è questo? Una volpe? Goiote? Chi è? Compra più pet! Perché più pet compri... Un tacchino! No! Ho preso un tacchino! Adesso ce lo facciamo arrosto! Volpe rosse e tacchino! Hai kippo! Hai kippo! Hai kippo tutti! Vediamo le altre uova! Perché c'è un uovo... Che forse è il più potente di tutti! L'uovo dei furri! No ma c'è Olaf! Ciao Frosty Olaf! Da Adopt Me sei venuto in Adoption Simulator! Che bello! E intanto io senza fare niente sto guadagnando un sacco di soldi! Non ho neanche bisogno di dare affetto! Mi servirebbe però un po' di affettato! Un milione! Ok ok ci stiamo arrivando! Cornutino vieni qua! Che voglio... Voglio un po' di affetto! Lo sto affettando poverino! A Cornutino! Guardate come lo sto affettando! Aspetta ma qui io teoricamente posso riempire tutto il mio mondo di... Di animali! Eh vabbè! Guardate la collezione di questo! C'ha pure il gufo! Il cavallo! Il guardiano di fuoco! Il guardiano di fuoco! E Mosè! C'ha pure Mosè! Mamma mia! Gli spartisce le acque! No! No io devo arrivare all'uovo più forte del mondo! Appena arriva all'uovo più forte del mondo! Per me è finito tutto! Apriamo questa! Un nuovo uovo! Un gufo! Ma è la gufata! Perché è il più povero di tutti! Ma che sia un corridore gufo? Guardate come corre il gufo! Cioè un attimo! Mettono a terra! Mettono a terra! Prendi la tartaruga! Eh vabbè! Deja vu! Ma che cosa ti sei mangiato? Eh vabbè! Vabbè! Guardate come scatta... Come scatta il razzo! È tutto scattato questo! Senti! Signor gufo! Signor gufo! Un attimo! Un attimo! Si faccia... Si faccia... Si faccia vedere! Ma che cose le hanno dato da mangiare da piccolo anziché i vermi? Le proteine! Perché guardate qua! Come scatta! Ok un altro! Oh! Quello 0,1 per... Mi sto incactusando eh! Mi sto incactusando qua! Voglio... Vabbè! Ma che pet è... Cioè... Non è possibile! Questi sì che sono pet! Guardate qua! Siamo arrivati! 15 milioni! 15 milioni d'amore! Mamma mia! Tutto sto amore! 15 milioni! Posso prendere? Ma c'era già il coglio! Appena mi spunto un altro coiote! Appena mi spunto un altro coiote! Un castoro! Guardate! Mamma mia il castoro! Wow! Ragazzi! Qual è il vostro pet preferito? Scrivetelo sotto nei commenti! Ok! Io posso dire che il video di oggi lo posso anche termine qua! Spero tantissimo che vi sia piaciuto! E nulla! Iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto! C'è un sacco di pollice in su! Quale posto non esiste è tutto! E noi ci vediamo a un prossimo video! Eeeeee... Ciao! 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 Grazie a tutti.